Che hai con questo fuorionda? No, dicevo, siccome abbiamo degli ospiti che magari non si possono vedere, dicevo di inquadrare il fuorionda, abbiamo qui Maurizio Scugnizio, facciamolo venire qua. Allora, Maurizio, vieni, chiudiamo con te. Io sono voluto stare bravo, bravo, non ho voluto fare nessuna battuta. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao Maurizio, ciao. Allora, Maurizio, tra le altre cose, ecco, vediamo, ci siamo, perfetto. Abbiamo visto Maurizio, Nicola, la grutta mi porta subito il gelato, che è quello che non si mangia, chiaramente, a te Maurizio. Allora, giovedì sera, protagonista in questa rete, grande successo, soddisfatto. Sì, intanto, comunque, perché ho preso nel cuore tutta la provincia di Trapani, comunque, io sono orgoglioso di essere qui e nella provincia, comunque, perché fare cantante è sempre stato molto difficile, però con l'aiuto delle persone io vado avanti, comunque, grazie comunque. Maurizio, cantaci una canzone. Allora, intanto leggevo Teatro Rivoli, Maurizio Scugnizio. Scusa, noi chiudiamo con lui. Sì. Allora, leggevo Teatro Rivoli, sabato 19, questa che cosa è? Sì, questo è il mio primo concerto che sto utilizzando qui a Mazzara, a Teatro Rivoli, che aspetto tante persone, tante fans, comunque, che mi seguono soprattutto. E quindi sarà questo sabato 19 marzo? Sì, sì. Alle ore 21 al Teatro Rivoli. Dopo quello con l'Impero, un bis non indifferente. Dopo il successo dell'Impero si... Mi pare che in gergo si dica, quando non c'è la musica, chiuderà a cappella cantando, giusto o no? Sì. Perfetto, allora, saluto. Sì, è un dono che potresti dedicare allo sport. Viva lo sport. Allora, grazie ad Alessandro Di Pasquale, grazie a Piero Campisi, grazie a Mestro Piemolicata, grazie a Daniele Cangitano, e con la speranza che durante i playoff magari ci rivediamo per poter parlare di questa benagurante promozione in serie B2, grazie a Filippo Cattaro che è stato con noi nella prima parte, grazie come sempre al coordinamento giornalistico di Giovanni Di Luvio, alla regia di Angelo Giacalone e della Tecama Nicola Grutta, chiudiamo con una canzone a cappella, quindi che si chiama Senza Musica, con Maurizio... No, si può fare un po' di musica? Ah, c'è anche la musica? Facciamo il grande successo di Maurizio Scunizio, che veramente piace tantissimo, e facciamo Moro per te, Moro per te, vediamo se... Già, basta. E allora, perfetto. Io volevo dire che a nome della redazione sportiva di Teleballo vogliamo regalarti questo un orologio... L'orologio è mio, non iniziare a diversificare cose che non sono due, se no regaliamo la... E cellulare... E allora, siamo veramente in ritardissimo, chiudiamo, abbiamo preso le sprovviste anche Angelo Giacalone, aspettiamo che ci dà l'ok dalla regia, dicevo grazie a Filippo Cattaro che è stato con noi nella prima parte, Tenzo Domingo che è intervenuto telefonicamente da Marsala, noi come sempre ci vediamo venerdì prossimo, grazie di averci ascoltato, buonanotte a tutti e chiudiamo con Maurizio Scunizio la sigla di questa sera in modo escezionale. Ok, buonasera. 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 Come è brutto stasera, senti freddo senza te Già sto tremando e paura, perché non devi venire Guarda fuori, sta chiudendo, all'improvviso devi che stai là Tu bagnata come un polcino, vieni a stringere un pochino con me Moro, moro pe te, da me stavo ca come sai tu L'intrante braccio me perduto cu te, provam e zema felicitam Moro, moro pe te, da ca se vuole se t'encedi Se non c'è stato, e non capisci niente più Troppi ricordi mi fanno pensare, cando solo non posso cantare Tutti importanti se tu te prometti, voglio bene